La Presidenza si è espressa, ho detto che è stato informato il Presidente Schifani. Proseguiamo, proseguiamo nelle votazioni. 6.304 è inammissibile. 6.305 è inammissibile. 6.306, no Legnini, no 6.306 è inammissibile. 6.307 è parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.24, che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.308, che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Per cortesia la Presidenza si è espressa, vado avanti con le votazioni, vado avanti. Rispetto anche per la Presidenza, io vi ho dato una risposta. rispetto per la Presidenza, vi ho dato una risposta, vergogna. 6.26, parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.309, che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.28, che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.29, che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Complimenti, complimenti, complimenti. La Presidenza si è espressa. 6.310, chi è favorevole, chi è contrario, non è approvato. Colleghi, bene, a questo punto sospendo l'Aula per 10 minuti. L'Aula è sospesa, l'Aula è sospesa.